Ben tornati amici di Extreme File, qui io e Manu che ci affronteremo oggi tra il classico tra Real Madrid e Barcellona. Ciao ragazzi, oggi sarà una bellissima partita spero dove io userò il Barcellona e il mio amico Davide userà il Real Madrid. Yes Manu, yes. Ok, adesso spero che vi piaccia questa partita, la divideremo in due video per caricarli meglio su. Su Youtube. Il primo tempo e il secondo. Esatto. Buona partita. Altrettanto. C'è lo speaker che parla italiano nel Camp Nou, nel Bernabeu, voglio capire il perché. C'è l'italiano Lauro Lopardi che gestisce la partita, arbitra la partita. Qui le formazioni ufficiali, Porta Gasilias, Sergio Ramos, Pepe, Riccardo Carvalho, Marzello, Xabiolons, il DRA, Osil, Kakà, eccetera. Higuain e Cristiano Ronaldo. Poi Barcellona andrà avanti con Valdés, Daniel Alves, Pujol, Piquet, Amidal, Iniesta, Mascherano, Xabi, Pedro e Messi, Viglia. Messi in punta centrale. Buona partita. Buona partita. Buona partita. Il DRA, gestisce la palla molto bene verso Riccardo Carvalho, che la gestisce verso Xabiolons, verso Higuain, qui Cagà, un po' malinteso, 3-2, qui l'1-2 ma non passa perché c'è... Eh non è che devi fare la telecronica della partita. Sì, vabbè, però mi piaceva la specificità era meglio. Ok. Ok. Ok, ragione. Qui ho fatto un po' il filo. Qui, il piccolo culetto di mano. Sì, vabbè. Dai, oh, rete! Lionel Messi! 1-0. Ti, dopo tre tentativi la palla deve per forza andare. Eh che cazzo, se invece i tentativi vincentavano. Eh vabbè. Pippa di merda. 1-0. Pippa di merda. Pippa di merda. Pippa di merda. Ma avete fatto caso che FIFA ogni classico ripete sempre solo le stesse cose? Sono belle, ma sono comunque le stesse cose. Infidatevi, dopo che l'avete comprato da quando è uscito, vi rompete davvero il cazzo. Per questo io non vedo l'ora che esca FIFA 12. Almeno sentiamo delle parla nuove, credo, spero. E qualche miglioramento. Spero. Ma credo di FIFA sempre stupefato il mondo. Li ehi e li ehi. Tutti i giochi che fa. No, mano. Fallo di mano. Ma è anche questo fallo di mano. Oh cazzo. Mamma mia. Che mi si stava insegnando? Che vabbè questa cosa mi arriva. Ma io che non faccio numeri con pichetti. Pichetti. David Villa. Si esalta. Non più. Cioè praticamente Fabio Crissetti porta una sfiga tremenda. Quando dice eccolo. Sbaglia. Vabbè quello è normale. Oppure. Manca solo il portere davanti a sé. Fuori gioco. Cioè non solo io. Poi alcune volte ti dice. Prima di battere il calcio d'angolo. Ma si ma ci sono. Calcio d'angolo battuto. Moltissimi. Bruttissimo. Invece. Lo batti. Brutto perché. Ti porta proprio sfiga. Sempre quando te lo dice. Noi merci. Conte veloci però. Per favore. 쪄tan. Nooo. Rigore. Ricore di mano. Regore di mano. Finto talko rete. Lionel Messi. 2-0 doppietta di Messi. che mi ho fatto il numero. ora no gambe lunghe e' alto babbo gambe lunghe dai messi in no 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 la testa poteva tutti i conti ma c'è come l'ha da la tenda fa troppo messo dai no oh cazzo ah questa era mano no ricordo no no ci c'è quanto spero di pararlo no no l'avevo strangolata mamma mia che pezza dei soliti deficit dall'altra parte fine primo tempo il primo tempo finisce così 2 a 0 per il Barcellona